Traffico di droga, estorsione, uso d'armi, tre esponenti del clan camorristico Sautto Ciccarelli sono stati arrestati a Napoli, Boiano, centro degli affari dello spaccio di cocaina, cinque chili in otto mesi, l'indagine fa seguito all'inchiesta Piazza Pulita A Montenero di Bisaccia l'ultimo saluto a Vittorio Quaglia, lo sfortunato 39enne morto nei campi di Mafalda domenica pomeriggio, otto i grandi elettori molisani chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Repubblica, il governatore Toma non ha dubbi, mi ha chiamato il Cavaliere Voto Berlusconi, molisani fiduciosi sulla fine della pandemia, la variante Omicron meno aggressiva ma più contagiosa potrebbe rappresentare per molti l'epilogo del Covid, intanto ieri altri 562 casi, sono 7 mila i molisani in fegna, il sindaco di Campobasso Gravina riapre le scuole lunedì si torna in classe, prima però test rapidi per tutti, il centro-destra lo attacca Pasquale, un azzardo, non sono convinti, neanche Annuario e Sabusco. Quattro assi dello sport molisano sotto i riflettori, la puntata speciale di Molise Sport ha riscosso grande coinvolgimento. Mario Gesuè, sportivo dell'anno, parla del mercato del Campobasso. Buon pomeriggio, ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso in apertura, lo avete sentito, c'è la cronaca, traffico di droga, estorsione, uso di armi tre esponenti del clan camorristico Sautto Ciccarelli sono stati arrestati a Napoli Boiano, la base, il centro degli affari, dello spaccio di cocaina, pensate 5 kg in 8 mesi l'indagine fa seguito all'inchiesta Piazza Pulita, tutti i particolari nel servizio di apertura curato da Andrea Verton, lo sentite. Sono stati tratti in arresto alle prime luci dell'alba a Napoli, sono tre camorristi appartenenti al clan Sautto Ciccarelli che in Molise avevano iniziato a gestire affari con il commercio di cocaina nella zona di Boiano, per loro pesa l'accusa di estorsione con metodo mafioso nonché spaccio reiterato per un ammontare di 5 kg di sostanza stupefacente identificata in uno specifico lasso di tempo. Gli arresti sono stati effettuati grazie alla deposizione del primo collaboratore di giustizia molisano inserito adesso nel programma di protezione già in carcere per l'inchiesta Piazza Pulita ed è proprio da tale operazione che sono emersi nuovi inquietanti dettagli che fanno riferimento alla presenza sempre più massiccia della camorra nel territorio molisano. I camorristi nello specifico gestivano direttamente l'arrivo della cocaina nell'area matesina affidando al molisano adesso collaboratore di giustizia i quantitativi di droga da vendere imponendo il proprio rifornimento come unica droga da dover offrire ai consumatori, il tutto tramite confronti verbali che avvenivano con tanto di pistole in bella vista, un giro di affari che si aggirava intorno alle 500 mila euro e che grazie all'operazione dei carabinieri della Guardia di Finanza è stato adesso smantellato. In conferenza stampa il procuratore D'Angelo ha approfondito le dinamiche di intervento. Questo è il terzo episodio in cui si arriva a delle misure cautelari, naturalmente poi il processo è ancora da farsi, nei confronti di persone legate a clan, in questo caso della camorra, in un altro caso si trattava di gruppi di persone legate a clan e questo dimostra come quello che si è detto più volte, cioè l'interesse che ha la criminalità organizzata al giro d'affari, al giro di droga in questa regione. Nel caso di specie hanno portato circa 5 kg di cocaina venduti nella zona di Boiano e dintorni, per dintorni non mi riferisco a Campobasso ovviamente, 5 kg venduti in 7-8 mesi a un prezzo di realizzazione di circa 500 mila euro e che loro portavano ricevendo 220-230 mila euro di guadagno. Il primo collaboratore di giustizia, forse il primo molisano a tutti gli effetti, che era uno poi dei soggetti arrestati nell'indagine Piazza Pulita e che ci ha descritto quello che è successo nell'intervallo di tempo tra la chiusura nostra delle indagini che è avvenuta a metà del 2019 e l'esecuzione delle misure cautelari che hanno interrotto le attività nel maggio 2020. Lo spacciatore molisano nel corso delle sue deposizioni ha raccontato anche altri dettagli che si riferiscono alle riunioni fatte con esponenti di spicco della Camorra, proprio nella città di Napoli, dove il molisano andava spesso a rifornirsi. I vertici della criminalità organizzata campana si chiedevano in quelle circostanze chi dovesse mettere le mani sul Molise, elementi che rendono il quadro ancora più lineare di quelli che sono gli interessi della criminalità organizzata ad impossessarsi dell'intero spaccio di droga sul territorio. Purtroppo anche i fatti di sangue gravissimi, verificati di recente in un contesto comunque legato al mondo della droga, ci deve far capire come questo problema abbia un carattere trasversale totale e mette in gioco la sicurezza di questa regione e nel lungo periodo anche i diritti dei cittadini. Non solo Camorra ma anche società foggiana, questa volta con maggiore riferimento alla costa molisana dove, spiega il procuratore D'Angelo, alcuni silenzi di alcuni imprenditori o commercianti locali potrebbe favorire l'inserimento graduale della criminalità organizzata. Purtroppo sulla costa questo va fatto, perché anche sulla costa va fatta questa attività, ma non basta perché già c'è un passo più avanti. La criminalità organizzata si interessa, diciamo, delle attività economiche sulla costa e devo dire c'è anche, si percepisce nella nostra attività, una minore propensione alla denuncia. I carabinieri di Vasto hanno arrestato un 32enne di origini albanesi ma da tempo in Italia già sottoposto in regime di affidamento in prova al servizio sociale presso una comunità di Vasto. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall'ufficio di sorveglianza di Campobasso, autorità giudiziaria competente alla verifica del rispetto delle prescrizioni della misura alternativa in atto di cui stava beneficiando l'arrestato dal mese di marzo, a seguito di una condanna combinata da diverse procura della Repubblica attraverso il sistema del cumulo definitivo di pene concorrenti in 7 anni e 4 mesi di reclusione per rapina in gioielleria effettuata a Brindisi nel 2017. Cinquantenne di Isernia ha trovato morto in un BNB di Termoli. La procura di Larino ha sequestrato il cadavere dell'uomo. Indagano i carabinieri della compagnia basso-mulisana intervenuti ieri mattina insieme al 118 e ai volontari della misericordia. Il magistrato ha disposto l'autopsia che verrà effettuata lunedì pomeriggio. Mentre questa mattina a Montenero si sono svolti i funerali di Vittorio Quaglia, lo sfortunato 39enne morto nei campi domenica pomeriggio. Sentite. Le note di My Way per l'ultimo saluto al 39enne Vittorio Quaglia, ragazzo benvoluto da tutti a Montenero di Bisaccia, vittima del tragico incidente agricolo avvenuto domenica sera a Mafalda. Chiesa di San Matteo Apostolo Gremita, tanta gente all'esterno, dove la funzione religiosa celebrata dal parroco Don Stefano Rossi e concelebrata dal parroco di Palata Don Franco Pezzotta è stata amplificata in filo di infusione per permettere a tutti di poterla seguire. I funerali e la benedizione del feretro hanno segnato l'ascesa al cielo di Vittorio, un ragazzo speciale che alla passione per arte e letteratura affiancava con umiltà e dedizione anche il duro lavoro nei campi. Le parole dell'omelia rivolti ai genitori Nicolette Giuseppe e dal fratello Guido. L'uscita del feretro dalla chiesa è stata accompagnata dal volo di palloncini bianchi per rappresentare il candore d'animo che Vittorio aveva in una Montenero di Bisaccia affranta per l'ennesimo dramma che ha ferito la comunità stretta attorno alla famiglia nel giorno di lutto cittadino, proclamato dalla sindaca Simona Contucci, municipio con bandiere a mezzasta e atmosfera mesta di commozione e dolore per l'ultimo viaggio di un figlio di tutti. E ora il coronavirus, l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale del Molise, altri tre ricoveri al Cardarelli, 562 nuovi casi, al momento sono 7.000 i molisani affetti dal virus Valentina Ciarlante. Tre nuovi ricoveri all'ospedale Cardarelli, altri 562 contagi e 120 guariti. Questi i numeri che delineano il quadro di un'emergenza che non molla la presa in Molise. Dal reparto di malattie infettive del Cardarelli è stato dimesso un paziente di Boiano, ma sono entrate tre persone affette dal virus rispettivamente di Campobasso, Ferrazzano e Longano. La situazione dell'ospedale di Campobasso parla quindi di 22 ricoverati, di cui due in terapia intensiva, dieci non sono vaccinati. I nuovi casi si mantengono alti, sono 562, 99 i positivi emersi dall'analisi di 1.208 tamponi molecolari, 463 i casi rilevati su 2.778 test antigenici. Il tasso di contagiosità è quasi invariato rispetto al giorno precedente, si attesta su 14%. 120 persone si sono negativizzate e quindi al momento in Molise i positivi sono quasi 7.000, quasi 4.000 invece le persone in isolamento. Altri 129 casi a Campobasso, 104 a Termoli, 41 a Isernia, tra molecolari e antigenici. Molisani fiduciosi sulla fine della pandemia, la variante Omicron meno aggressiva ma più contagiosa potrebbe rappresentare per molti l'epilogo del Covid. Sentite Nicola De Santis e la sua inchiesta. Beh, la paura c'è perché è molto contagiosa e quindi c'è il rischio che i contagi arrivino a livelli esponenziali. Però se si è vaccinati la si combatte e dobbiamo farlo tutti. Potrebbe la variante Omicron rappresentare il canto del cigno del Covid? È ciò che sostengono molti virologi ed è anche ciò che sperano i morisani ormai esausti per la convivenza forzata col virus. In attesa del picco di contagi, previsto per le prossime settimane, diviene fondamentale completare il ciclo vaccinale ed osservare le misure igieniche indicate dal governo. Lo stato d'animo delle persone da noi intervistate oscilla tra la rassegnazione e la paura, anche se molti ormai intravedono una luce, seppur fioca, in fondo al tunnel. Che ne posso pensare? Come viene ce la prendiamo, no? Purtroppo che cosa devo pensare? Quello che penso non conta niente, quello che succede che conta. Sono vaccinato quindi sono relativamente tranquillo, che dovrebbero tutti quanti vaccinarsi. Dobbiamo dar retta alla scienza, altrimenti i nostri figli e noi abbiamo studiato per niente. Non sono un medico e non mi permetto di fare teorie come la gente fa sui social senza saperne niente, quindi vedremo quello che succederà. Diciamo che ci stiamo un po' abituando, bisogna conviverci oramai con questo virus, però sicuramente bisogna stare attenti, rispettare le regole, indossare la mascherina, il distanziamento, insomma, prima o poi ne usciremo. Rispetto alle altre varianti sembra che sia meno aggressiva rispetto alle altre varianti, quindi speriamo bene, speriamo di uscirne fuori. Secondo me ce ne saranno altre, forse andranno a finire e a finire un po' più leggere, però ci saranno comunque, ci vuole ancora molto tempo, secondo me. Ma molto probabilmente da quanto hanno detto anche i virologi, sono più o meno tutti d'accordo, in primavera si dovrebbe davvero vedere la luce, però il vaccino è fondamentale. Fondamentale, fondamentale. Certamente abbiamo paura, non lo so. Il giro del virus non è finito, anzi, potrebbe pure darsi che sia così, ma chi ce lo dice, chi ce lo assicura? Diciamo che ascoltando le notizie, tutti i vari professori che parlano dicono che praticamente ci dovremmo convivere, quindi non ne usciremo mai da questa pandemia. Sarà come una semplice influenza ogni anno, quindi ci dovremmo difendere. E lunedì prossimo intanto gli studenti di Campobasso torneranno a seguire le lezioni in presenza nel weekend alla Cittadella dell'Economia Test Rapidi Gratuiti per tutti i ragazzi di infanzia, primaria e medie. Valentina Ciarlo. È ufficiale, le scuole di Campobasso riaprono i battenti. Da lunedì 17 gennaio lezioni in presenza per gli studenti di materne, elementari e medie del capoluogo che su decisione del sindaco Roberto Gravina hanno sostenuto una settimana di didattica a distanza in considerazione dell'alta diffusione della variante Omicron del Covid che ha fatto del capoluogo il centro più colpito del Molise con oltre 1.200 contagi. Prima di far rientrare i bambini e i ragazzi in classe però Gravina ha previsto uno screening gratuito con tamponi antigenici che verranno somministrati con la modalità del drive-in. Sabato dalle ore 8.30 alle 1.30 agli scolari di infanzia e primaria della Iovine e del convitto Mario Pagano. Dalle 14.30 alle 17.30 all'infanzia e alla primaria della Petrone. Domenica invece test rapidi dalle 8.30 alle 13.30 ai bambini di infanzia e primaria della Montini e della Colozza. Infine sempre domenica dalle 14.30 alle 17.30 test riservati all'infanzia e alla primaria della Dovidio. L'attività vedrà il coordinamento della Croce Rossa e si svolgerà nella zona accanto al centro vaccinale posto nella cittadella dell'economia in Contrada Selvapiana. Lunedì si torna a scuola salvo chiaramente abbiamo attivato per i numeri della città capoluogo era impensabile fare uno screening a tappeto su tutta la popolazione ma ci siamo rivolti soprattutto a coloro che non sono vaccinati o che adesso stanno completando il ciclo di vaccinazione o lo stanno iniziando quindi si tornerà a scuola con la prescrizione che qualora l'esito dei tamponi che abbiamo previsto per, parlo con la vecchia denominazione, quindi per le materne e per gli elementari comprese le paritarie, questa è una specificazione che voglio fare se l'esito dovesse confermare che il numero di positivi è molto basso si tornerà tutti a scuola per tutte, per ogni, quindi per ogni grado di istruzione. Bene, la decisione dello screening di massa al fine di mappare la popolazione studentesca in una fase, la quarta ondata della pandemia in cui è aumentato in maniera esponenziale il contagio tra i giovani, dice il consigliere comunale di Campobasso Alessandro Pascale e far rientrare gli studenti in presenza a mio avviso invece è un azzardo considerando che gli esperti stanno affermando come il picco dei contagi si registrerà nelle prossime settimane la didattica a distanza, conclude Pascale, è una valida soluzione per limitare gli spostamenti e l'affollamento in città. E non condividiamo pienamente la scelta del sindaco Robe Gravina di far tornare in presenza gli studenti lunedì 17 gennaio lo scrivono Mario Annuario e Massimo Sabusco alla luce del numero dei contagi che si registrano quotidianamente era preferibile continuare ancora per qualche settimana con la didattica a distanza, dicono Mario Annuario e Massimo Sabusco consiglieri comunali d'opposizione a Palazzo San Giorgio e anche a Termoli lunedì si torna in classe e in occasione della riapertura delle scuole l'amministrazione comunale ha organizzato per sabato, dunque per domani un nuovo screening epidemiologico gratuito dedicato agli studenti al fine di verificare l'incidenza da Covid-19 tra la popolazione scolastica lo screening con test rapido e riservato agli studenti residenti in città si darà presso la sede della Misericordia in via Biferno dalle 8 alle 18 per aderire è possibile scaricare e compilare il modulo da consegnare ai volontari della Misericordia al momento del tampone dalla home page del sito internet del comune di Termoli comune.termoli.campobasso.it l'eventuale positività del tampone sarà prontamente comunicata agli interessati via telefono al numero indicato sul modulo di adesione è sempre domani presso la casa della salute poliambulatorio di via Padre Pio a Montenero di Bisaccio dalle 9 alle 13 si procederà la vaccinazione anti-Covid per i bambini dai 5 ai 11 anni saranno disponibili 200 dosi di vaccino e le prenotazioni possono essere effettuate sulla piattaforma regionale rivolgo ancora una volta l'invito ai genitori dichiara la sindaca Simona Contucci a prenotare il vaccino anti-Covid cambiamo argomento parliamo del nuovo presidente della Repubblica il Covid imporrà delle regole ferre è una seduta al giorno si vota in turni da 306 al voto anche 8 grandi elettori molisani Toma non ha dubbi mi ha chiamato il Cavaliere ha detto ai nostri microfoni voterò Berlusconi 8 i grandi elettori che rappresenteranno il Molise nella scelta del nuovo presidente della Repubblica i parlamentari Antonio Federico Fabrizio Ortis Luigi Di Marzio Giuseppina Occhio Nero e Rosalba Testamento il presidente della regione Donato Toma il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone ed il consigliere regionale Andrea Greco i 5 Stelle sono in attesa delle indicazioni del partito sulla base di quali saranno le possibilità di scelta mentre c'è chi ha già le idee chiarissime è il caso del governatore Donato Toma che nell'escorsione ha ricevuto una telefonata speciale nell'escorsione lei ha squillato il telefono sul telefonino c'era scritto Silvio Berlusconi cosa le ha detto? beh prima di tutto si è complimentato per la elezione a grande elettore ha fatto i complimenti a me al presidente del consiglio al componente della minoranza che è stato eletto lui è sempre un signore in queste cose io gli ho rinnovato la fiducia che gli daremo come maggioranza nel caso in cui volesse mantenere ferma e mi è sembrato proprio che avesse questo proposito la sua candidatura a presidente della Repubblica nel giorno delle sequie di Stato tributate dal nostro governo al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli con una cerimonia funebre nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica Roma anche il comune di Campobasso ha esposto a mezzasta le bandiere nazionali nazionale ed europea così come avviene in tutti gli edifici pubblici in segno di lutto il saluto che oggi tributiamo al presidente David Sassoli ha dichiarato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina non potrà mai essere l'ultimo da parte del nostro paese verso un uomo che merita un ricordo sempre vivo per essere stato in grado di trasmettere a chiunque lo abbia incrociato durante il suo percorso professionale e istituzionale una serenità d'animo un'onestà di pensiero e di principi sempre spontanea che di fatto hanno rappresentato la bussola del suo trasparente tragitto umano giornalistico e politico Riccardo Feola non è più il segretario del comune di Isernia il professionista infatti ha scelto di trasferirsi a Benevento dove ricoprirà lo stesso incarico l'ufficialità dell'incarico è attesa la prossima settimana Feola lascia Isernia dopo 19 mesi era stato infatti nominato dall'allora sindaco Giacomo da Pollonio il primo giugno del 2020 bene ora vediamo che tempo farà sul Molise domani con il nostro meteo Previsioni del tempo per sabato 15 gennaio sul Molise cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso venti deboli mare mosso e temperature in aumento vediamone nel dettaglio Campobasso minima 4 massima 12 Isernia minima 6 massima 15 Termoli minima 10 massima 14 Venafro minima 6 massima 14 gradi Davvero tutto per questa edizione linea alla regia tra pochissimo un'ampia pagina sportiva a tra poco dunque quattro assi dello sport molisano sotto i riflettori la puntata speciale di Molise Sport di ieri sera ha riscorso grande coinvolgimento il racconto della serata affidato a Vincenzo Ciccone sentite una serata di riconoscimenti e di celebrazione dello sport molisano la puntata speciale di Molise Sport il salotto sportivo di Teleregione condotto da Francesco Presutti ha messo in luce quattro eccellenze del movimento in regione che hanno reso ancora più memorabile un 2021 di per sé superlativo sotto i riflettori alla presenza del direttore dell'emittente Pierluigi Boragine e della presidente Ussi Molise Valentina Ciarlante sono figli del campo basso che ha riportato il Molise nell'universo calcistico e professionismo un motivo d'orgoglio sia per il sindaco del capoluogo Roberto Gravina che per il padrone dei lupi Mario Gesuè Gravina ha definito la squadra un volano per la città ma non solo era molto atteso la città ha festeggiato tutti quanti noi abbiamo festeggiato una conquista che mancava da anni e oggi chiaramente la sfida è conservare questa conquista e perché no guardare avanti anche con ottimismo anche e soprattutto in vista degli altri lavori che lo stadio subirà e che gli consentiranno anche di poter ospitare partite di altro tipo pensando anche alla nazionale Gesuè dal canto suo ha ripercorso una cavalcata unica no siamo felici più alla squadra dai al gruppo alla società che poi ha portato a termine questa cavalcata dello scorso anno poi purtroppo i mesi passano il tempo passa i bei ricordi svaniscono facilmente ma non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo vissuto io l'ho detto in un post di fine anno che è un anno che sarà indimenticabile per me per noi per quello che è stato per Campobasso questa annata perché vincere è una cosa sempre difficile lo pensavo il primo giorno che sono arrivato qui esserci riuscito è sicuramente una grande soddisfazione ma il merito va poi che è sceso in campo e ha messo tutta l'anima per poter raggiungere questo obiettivo al centro della puntata poi sono finite le storie di Maria Centracchio atleta dell'anno dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo la cui vicenda è stata raccontata dal giornalista di Sernino della Gazzetta dello Sport Antonino Morici collegato via Skype e del sette volte tricolore di autoslalom Fabio Emanuele cui è andato il premio alla carriera riconoscimento che il driver della Campobasso corse ha accolto con grande soddisfazione è un grande onore prima di tutto e mi fa tanto piacere perché ho cercato sempre di rappresentare il mio Molise in questa specialità e devo dire che sono stato premiato quindi mi fa tanto tanto piacere e ringrazio tutti per questo premio a completare la serata il premio per il team dell'anno conquistato dalla Magnoia Campobasso presente in studio con la Presidente Antonella Palmieri alla presenza peraltro anche del Presidente dell'Aggiunta della Regione Molise Donato Toma questi sono messaggi ma sono anche segnali siccome io credo nei segnali e nella proiezione di questi segnali nel futuro penso ad un grande futuro per questa grande regione grande piccola regione con un grande futuro la Magnoia ha sottolineato il Governatore è un esempio della reputazione nascesa del territorio Palmieri invece ha messo in evidenza il lavoro di squadra del gruppo Rosso Blu ma è sempre una cosa bellissima io dico sempre mi stupisco perché poi noi siamo sempre concentrati a fare a fare a fare e a volte non ci accorgiamo che magari intorno c'è qualcuno che apprezza e si rende conto di quello che si sta facendo che credo sia comunque una cosa oggettivamente bella per questa regione è difficile non semplice che necessità di un impegno importante però penso che sia una bella cosa e da margine della premiazione il patron del Campobasso Mario Gesue ci ha concesso un'intervista esclusiva tra mercato e voglia di tornare in campo sentite in bocca attenzione da parte del Governo perché dice Mario Gesue anche i nostri club sono delle aziende spera che si possa tornare in campo il prima possibile e giocare con regolarità a Campobasso per ritirare il premio assegnatogli dalla redazione sportiva di Teleregione in una edizione speciale di Molise Sport il patron dei lupi Mario Gesue parla del mercato dei russo-blu noi immaginavamo all'inizio del mercato comunque di lavorare su uscite ed entrate quindi ad un'uscita o ad un'entrata eventualmente ci sarà un percorso inverso di un altro giocatore siamo alla finestra abbiamo in mente qualcosa vorremmo cambiare qualcosa all'interno della squadra magari anche da un punto di vista di caratteristiche di chi ha giocato un po' meno cercare di andare su qualcosa su qualche altra caratteristica vediamo anche quello che il mercato ci mette a disposizione è un mercato un po' fermo nei primi dieci giorni si è mosso ben poco perché tutti siamo nella stessa condizione quindi ad un'uscita ad un'entrata eventualmente ci deve essere un percorso inverso quindi vediamo quello che il mercato ci mette a disposizione siamo con gli occhi aperti comunque sì della necessità di guardare con attenzione a cosa sia in casa prima di effettuare operazioni i nostri giocatori giovani sono voluti da moltissimi club e quindi lo dicevo l'altro giorno parlando con il direttore di Angelis e Mandragora dicevo forse anche noi per primi non apprezziamo abbastanza quello che abbiamo in casa perché sapere che club di prima fascia in questa categoria sono interessati ai nostri giovani ai nostri giocatori a Rossetti a Vitali a Liguori a Tengorani come dire poi vedo a volte siamo noi i primi a criticarli in casa nostra e quindi forse invece non siamo abbastanza obiettivi nel riconoscere quello che stiamo facendo abbiamo fatto una buona prima parte di stagione abbiamo avuto un calo dovuto a molti infortuni e siamo pronti però a ripartire convinti dalle nostre scelte i pezzi pregiati non si muoveranno a meno di offerte mostre e tra i pezzi pregiati c'è Rossetti sicuramente è un giocatore apprezzato abbiamo ricevuto qualche telefonata da parte nostra è abbastanza lineare l'indicazione nel senso che Mattia Rossetti ha un pluriennale con noi quindi non è che può andare via con facilità se dovesse arrivare un'offerta veramente irrinunciabile per noi e anche per il ragazzo da un punto di vista di prospettiva la prenderemo in considerazione ma deve essere veramente rinunciabile se no noi crediamo che Mattia debba essere come dire una pedina importante di questa squadra mentre Parigi piace al Picerno ed Emmausso al Mantua allora diciamo che anche su di lui è il discorso che facevo prima c'è molto interesse sui nostri giocatori a volte forse dovremmo apprezzarli di più vediamo se anche per lui arriva qualcosa di interessante una prospettiva che permetta anche al ragazzo che è un professionista esemplare serio di potersi poter giocare con più continuità gli daremo anche a lui questa occasione sicuramente prima le uscite poi eventuali entrate il mantra del Campobasso e di Gesùè che punta a mantenere i conti in ordine è un pezzo per reparto ripeto se ci saranno delle uscite ci saranno delle entrate tutto qui se no rimaniamo così ma visto che sono convinto che poi qualcosa in uscita faremo io penso che in base a chi uscirà al ruolo faremo un'entrata e fine settimana senza impegni agonistici per le formazioni di serie A1 e B della Magnolia Campobasso la prima squadra complice il principio di focolaio di Covid-19 all'interno del gruppo Rosso-Blu ha visto rinviato il match interno con la Virtus Bologna con la situazione che continuerà ad essere monitorata in B invece il Covid-19 con cui stanno condividendo le giocatrici della Panthers Roseto ha portato a rinvio del match del team di cadetteria in programma domenica e chiudiamo con il Futsal perché il circolo la nebbia Cus Molise a Viterbo in A2 le due molisane di serie B Sporting Venafro e Chaminade in Puglia l'ultima del girone d'andata sarà intensa per le tre molisane tutte le anticipazioni nel servizio di Vincenzo Ciccone In un panorama di tanti rinvio con cancellazioni di eventi con ritorno in campo prorogato al prossimo weekend saranno l'unica riserva di sport seppure in un contesto con comunque diversi differimenti i tre molisane del Futsal saranno in campo domani pomeriggio alle 16 per l'ultima giornata d'andata nei rispettivi tornei nel girone C di serie A2 dove con Tombesi Ortona Roma C5 sarà l'unica delle gare disputate il CLN Cus Molise dopo quattro settimane dall'ultimo match giocato a Pescara va a far visita alla leader e campione d'inverno Active Network a Viterbo per il quintetto di Marco Sanginario necessario il bottino pieno per continuare ad inseguire l'obiettivo Coppa Italia in attesa della pronuncia del giudice sportivo sulla gara in casa della Roma perché davanti a sé i rosso-blu avranno ora un ciclo terribile con mercoledì il recupero al pala unimo contro la Lazio e poi venerdì il match valido per la prima di ritorno in casa del Benevento seconda della classe nel girone G della serie B invece dove non sono previsti rinvia a causa del coronavirus e con orario di inizio in contemporanea alle 16 trasferte pugliese per entrambe le molisane a Martina Franca nella tanna della leader Itria lo Sporting Venafro a quattro settimane dall'ultima uscita al Palapede Montana contro il Canosa proverà puntanto ad ampliare la propria striscia positiva a frutto dei due successi e due pareggi a giocarsi le ultime chance per la Coppa Italia sperando anche in un aiuto dei cugini della Chaminade chiamati a sfidare in esterno il palo del Colle per uscire dall'ultimo periodo nero contraddistinto da ben 5 sconfitte Ora vediamo il quadro completo dei match che si disputeranno nel weekend in serie A2 nel raggruppamento C parliamo della tredicesima giornata e allora quelli che vedete sono incontri in programma alcune gare si disputeranno domani Active Network CLN Cus Molise e Tombesi Ortona Roma calcio a 5 mentre le altre gare si giocheranno il 25 gennaio in campo tutte domani invece le formazioni del raggruppamento B del raggruppamento G della serie B invece anche qui si tratta della tredicesima giornata e come avete sentito dal servizio impegni esterni per le due molisane bene è tutto anche con la pagina sportiva grazie per averci scelto buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci grazie